no di lì è così eh torniamo indietro adesso di là di gomito di gomito io direi di farla anche andare insieme qua è il portaggio eh ma la facciamo andare in su così passiamo ancora da qua la facciamo di schiena grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti